Emiliano, archiviata la sosta si ritorna in acqua, come sta la squadra innanzitutto? Questa settimana con la sosta abbiamo caricato un pochetto, abbiamo messo carbone come si fa di solito nelle periodi di un po' di stacco, però stiamo messi bene, abbiamo avuto magari qualche problemino in settimana con l'Oris che è stato male, sono tanti biologici e qualcuno di noi, compreso io, con qualche problemino di influenza però comunque stiamo bene. Tra l'altro il sette scoglie è una squadra che era partita con ambizioni di metà classifica, si è ritrovata in vischiata nella lotta per non retrocedere, ti aspetti una squadra magari con una voglia maggiore di rivalza? Ultimamente stanno giocando molto meglio, poi hanno qualche giocatore singolo che gli fa differenza, vedi Cavilleri che stanno uno dei migliori giocatori della Serie A1 negli ultimi anni, però a casa sono una bella squadra, specialmente, ultimamente possono dare fastidio a molte squadre. Ecco, l'hai detto tu, fa ripuntate su Camilleri che è uno dei migliori giocatori della formazione avversaria, c'è stato da parte di coach Cavagliarini un piano Camilleri per arginare questo tipo di giocatore oppure si è preparata la partita come al solito? Beh, al solito noi prepariamo la partita come sempre, puntiamo sulla difesa e sul nostro gioco, però magari un occhio di riguardo c'è sempre su qualche giocatore, specialmente uno come Camilleri. Tra le altre cose, tra i giocatori avversari ritroverete anche Monarchioli, quale sarà insomma l'emozione, se ci sarà l'emozione di rivedere un ex Civitale Chiese come avversario? Beh, un'emozione c'è sempre, con Simone abbiamo giocato qualche anno nella giovanile, lui ha deciso poi di andare fuori, però va bene così, noi dobbiamo fare la nostra partita e vincere. Adesso per ritornare invece all'SNC, che cosa ti aspetta? Insomma, qual è il morale anche dopo le due sconfitte un po' inaspettate all'interno dello spogliatoio? Beh, comunque sono stati inaspettati, specialmente quella di Bologna che era un po' sofferta è stata, però va bene, ci può capitare, meglio di così non si voleva fare perché l'altro anno, come sappiamo tutti, l'abbiamo vinto e abbiamo perso solo l'unica e non dovevamo perdere con il Visnovo in finale. L'importante comunque sarà giocare bene queste due partite, saranno molto fondamentali, visto che sono due trasferte un po' ostiche, perché dopo i sette scogli abbiamo i muri antichi, che a casa sono un bel problema, poi specialmente perché puntano a fare gli ultimi punti per la salvezza, però daremo il massimo e speriamo di iniziare comunque.